musica 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 ah ha aperto musica musica sto guardando io quella no pippa non tornare indietro musica 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 Ce n'è un altro Se c'era quel buco lì libero Cazzo Lo ammazzavamo in un secondo Morto è morto Non quello fuori Ci penso io Vai 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 Mi sto coprendo Ah siete tutte e due E che cazzo mi stava sparando Dovevo ricaricare un secondo Ok Vediamo di mandare il drone Aha salve lei Quindi se faccio così No tu da dove sei arrivato L'ho ammazzato in un colpo Che culo Nemico rilevato all'esterno Io muoio Eh non ce la fai Lascia perdere Eccolo Bella Bella Ok Pippo togliti Che stai a fa Pippo C'è un blitz sotto Occhio a Pippo che c'è un blitz qua Ho sentito sparare Eh lui di sicuro Era qui a sinistra Non so se sopra o sotto Buona Non era blitz però eh Sì lo vedo lo vedo C'è scritto ancora È ancora giù che sta spaccando roba le blitz No Era un drone che ho fermato A sinistra Sì sì ma lo copriamo da qua Ci riusciamo di fare Vabbè Arrivano uno dalle scale Uo Non da te Sì 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 Come questa Da dove? S'è buttato giù Incredibile Non posso andare Sento il blitz Eh cazzo proprio il blitz Ma io credo che ci fosse una corda lì Non sapevo neanche che ci fosse una terrazza C'è una fortificazione Mi c'è il gem Mi c'è il gem Un gem Attenzione Solto Ah ah Cazzo me l'hanno distrutto C'era una botola Proprio zero Sono stato individuato da dove Ah ah E' buono Sono dietro di tionf Che a destra Aspetta Tio Guarda Aspetta Vieni qua con me Invece ne ho uno qua ma massacrato Bravo Teo bravo Hai lanciato la cosa che non vedo una siga Non basta Bella raga Bella 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 No per uno che chiede pietà no? No 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 boh La porca putta Ma io ho detto bella perchè pensavo di aver vinto Ma sei scemo Anche un altro scemo Ma perchè? Ah perchè ti aveva ucciso Ucciso lo stadio Ma perchè? Ciao bello Però c'è il jammer vero? No gli sono saltato addosso Pensavo fosse sulle scale Beh perchè io avevo ammazzato un tipo Che ti stava sparando Ma te rin per terra Io stavo dando il colpo di grazia E ti ha ammazzato lo stadio C'è uno la Ma non è quello l'edificio giusto vero? E' sempre il soio No no è quello è quello Si si Io sto andando infatti a quello sbagliato Ma questo cosa sta facendo? Uno alle scale Qua Io me la sono arrischiata Arrischiata Dio Dio Collo non muore alle scale Ma possibile che becco sempre La restinzione? Oh Buona Ah 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 Succa 3 contro 5 Succa Non ho capito come ha fatto ad ammazzare l'alleato Ah Ha ammazzato lo stadio anche lui Sì vabbè era l'ultimo rimasto no? Cioè non è che... Questo lo chiudo Pippo o ti chiudi dentro tu? Madonna santa madonna madonna santa Eh lo dovresti sapere che qual'è la posizione giusta Ma se lo so E' un coglione Se neanche un coglione Che cosa Se ne vede un cazzo Sono stato individuato peggio ancora Sì vede un cazzo Sono stato individuato peggio ancora Oh Dio, Rai, Bai, 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 Bai. Uno. Cazzo sta succedendo là dentro. Come cazzo ha fatto? Lui mi vedeva io niente. Sì, sì, tu spara il drone, spara il drone. Cazzo ti arrivo da sinistra a destra, bravo, bravo, bravissima. Bravo, bravo, bravo. Ho trovato un modo per evitare i jammer qua dentro, però mi ha beccato lui. Ho sentito un C4. Ah no, sono tutti qua, guarda. Sono tutti dall'altra parte. Mi pare, eh. Ah, io faccio esplodere il castor? Ho trovato un C4. Ah no. Che cazzo. Perception. Ah no, ma se lavin... Eh... Oh no. Eh... E' Sì Mamma c'era un Frost davanti all'ostaggio Ma troppo le Frost di merda, oh la madonna Tipo là, era un pomodoro di sangue proprio Ferimento Sapevo Ma perché mi avete fatto quel cazzo di buco Perché mi avete fatto quel cazzo di buco Guarda questo Da dove mi ha ucciso È fuori mappa praticamente Cazzo pensavo di fare che c'erano anche le laser Volevi buttarti giù dalla finestra Sì Ti credo anch'io Non c'è un jammer quindi Se è nascosto, se ne sta andando Vuoi entrare Cazzo sta sparando Non c'è nessuno Ecco non c'è un altro adesso Aspetta Qui in fondo Ok è andato via Niente No c'era una trappola di Frost Bastardo È arrivato Ovviamente la trappola di Frost C'è sempre che rompe i coglioni Niente Ah ma sono stato individuato da dove Porca puttana C'è mi spiegate dove era quel cazzo di drone Possono anche urlare Ciao Complimenti C'è a livello 100 qua Guarda Guarda il primo da loro 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 Guarda il primo da loro